Successo di autorità per la Savino del Bene, che al ritorno dalla vittoriosa trasferta di Cev Champions League in quel di Kaliningrad, non mostra segni di stanchezza e si impone 3-0 contro la Zanetti Bergamo, regolata in 1 ora e 24 minuti di gioco, con i parziali di 25-16, 25-23 e 25-12. La Scandicini Cristofani, scesa in campo con il 6-1 titolare visto in Russia, ha subito fatto sua la prima frazione, grazie ai colpi di Stisiac e a due lunghi turni di battuta di Lubian, a minare la linea di ricezione della Zanetti Bergamo. Nel secondo set la squadra di Fenoglio ha cercato una pronta reazione, combattendo a lungo ad armi pari. Sul 17-17 però la Savino del Bene è salita sui pedali, piazzandola a lungo decisivo per il set, arrivando fino al 21-18. Combattiva come il suo tecnico, però la Zanetti è tornata a spaventare la Savino del Bene nel finale di set, con la formazione scandicese che per imporsi 25-23 ha dovuto affidarsi a due colpi di una determinante Stisiac, con la Polacca a cancellare i fantasmi della rimonta subita da Scandici a Cuneo. Nel terzo set la resistenza di Bergamo è stata invece vinta facilmente dalla Savino del Bene, in grado di far suo il set con largo anticipo, dando spazio anche ad un turnover buono per preservare le energie in vista della gara del prossimo mercoledì, valevole per i quarti di Coppa Italia. Il 29 gennaio alle 20.30 infatti il palazzetto dello sport di Scandici sarà teatro della sfida da dentro fuori, tra la Savino del Bene e la Eppiupomi Casa il Maggiore. La Zanetti Bergamo invece, non avendo impegni di Coppa, potrà lavorare in palestra per una settimana.